ciao bello a tutti amici youtube qui è il vostro Agatron che vi parla benvenuti in questo nuovo video stasera siamo qui per fare lo sboosting della nuova espansione di Yu-Gi-Oh! esplosione alla oscura e ragazzi intanto che apri o apro vi spiego un attimino quello che vorrei cercare cosa stiamo cercando? stiamo cercando in tutti i Vistia soprattutto l'Ubelion che ho già trovato uno allo sneak peek poi sono riuscito anche a recuperare la Cartesia e speriamo di trovare qualcosa di buono magari anche la Starlight che magari riesco sempre a rivenderle tutto e niente possiamo anche cominciare quindi saranno le stesse modalità dell'ultima volta ovvero farò veloce con le Common poi dopo se ci sarà la Super vediamo un attimino che cos'è e andiamo partiamo allora abbiamo Common 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 e abbiamo già un Bistial uno che sta cercando ovvero Bistial Saronir questo qua è utile lo stavo cercando e fa benissimo quindi poi dopo altre Common che non ci chiedere che sanno passiamo alla prossima allora Common 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 e altro Bistial Magnamut questo qua già due Bistial già la prima boost vabbè sono super però comunque sia vista la difficoltà di trovarle vanno bene sempre e poi altre Common e basta però già due Bistial che mi servono ok ripeto sono super non so chissà che cosa ma comunque fa sempre il Comodo passiamo alla prossima allora Common 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 abbiamo già una Ultra la vera la Dea Verna Silfide un'altra carta Verna Silfide ci sta ci sta però comunque dai fa niente andiamo avanti allora Common 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 Un'altra Ultra abbiamo il Laryon il Serpente dei Goti ci sta anche questo ci sta tanto mi servono in tre per di tutti i Bistial quindi vanno bene e poi dopo altre Common 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 andiamo avanti con la prossima e abbiamo già aperte mi sembra quanto 5 ne abbiamo aperte 5 dai buon numero adesso siamo alla sesta 1 2 3 4 abbiamo un'ala nera vabbè alla nera sa una tempesta di sabbia vabbè ci sta una super carina ma non faccio l'amica qua dopo altre Common Common andiamo avanti con la prossima quello che parla di Mr. X che non ha voluto partecipare stavolta ma passiamo alla prossima qua Common 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 altro alla nera alla nera Kino l'esplosione di neve altra super che non ci interessa abbiamo altre Common andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti Common 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 Arci Demonis Silum una trappola che non importa e altre Common che possiamo anche su cui possiamo anche sorvolare andiamo avanti Allora Allora Common 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 Sprite Sprint Secret e sta ci sta ci sta ci sta possiamo farlo e possiamo andare avanti abbiamo Common 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 shoutmy Shamsen Samada Dolorgatto abbiamo il Shoyi Lingua e altri Common Common e avanti questi Shoyi Lingua di un nome c'e la Konami poteva inventarsi qualcosa di meglio pure se siamo noi traduttori italiani che facciamo pena Vabbè unos Common 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 e un'altra secret, abbiamo gothi, lancia dei gothi vabbè, qualcosa mi dice che ci è andata male crea altre common vabbè, siamo alla prossima che ormai non so se ci potranno regalare altre secret sarà difficile però dai, andiamo avanti però già abbiamo trovato dei bestial che non è male su, common, common common alla nera va l'emblema del vagabondaggio vabbè, altro nome vabbè, e altre common semi triste come cosa, però dobbiamo accettarla andiamo avanti andiamo common, 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 common bestia marchiata questa qua serve per i bestia ci sta, ci sta questa qua mi serve poi dopo altre common andiamo avanti con la prossima common, 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 common common, abbiamo verna sifili della sementa nebulizzata abbiamo il paper, abbiamo paperino andiamo avanti un po' da po' con altre common in caso e facciamo la prossima busta common, 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 common common, uh, che stira unicorno questo qua l'ho già trovato però comunque ci sta a trovare dai, mettiamolo da parte e poi dopo abbiamo altre common e basta possiamo anche andare avanti però già dai è un buon bottino è un buon bottino soprattutto per i bestia ci stanno sempre andiamo avanti con la prossima uno, due, tre, quattro furia gothi un'altra carta trappola per i gothi che non faccio e abbiamo poi altre common prossima busta abbiamo common, 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 common baku il ninja di bestia andiamo avanti common, 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 common e niente più passiamo alle prossime che abbiamo ancora una, due, tre, quattro, cinque, sei sette buste magari riusciamo a bustare magari anche la terza e non sarebbe una cosa così rana però vabbè proviamo andiamo common, 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 common back, carico, belliccia, mercenaria e nulla di che vabbè andiamo avanti con le prossime common siamo alla sest'ultima common, 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 common danner, pugile, belliccia, mercenaria e poi altre common passiamo alle prossime common, 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 common vortice più maniera e poi altre queste altre common ragazzi io faccio il più veloce possibile che così almeno non dura non dura in eternità il video quindi andiamo avanti common, 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 common rex, carico, belliccia, mercenaria vabbè andiamo avanti con le common passiamo al prossimo common, 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 common incrocio doppio sprite e altre common e altre common ne abbiamo ancora due siamo alla penultima common, 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 common marchiato riconquistato anche questa qua mi serve previsti al cistà la gioco va bene e passiamo per le prossime common siamo all'ultima siamo all'ultima ragazzi siamo all'ultima andiamo eh common 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 un cannone da rum a carpa distruttivo questa qua è grossa questa qua è grossa e ci sta poi dopo qua abbiamo altre common e adesso facciamo il resoconto di tutto quello che abbiamo trovato allora abbiamo trovato un sincro dei goti abbiamo il sincro dei goti e abbiamo poi il link degli sprite poi abbiamo con le ultra la trappola della ruma poi abbiamo l'unicorno un altro sincro dei goti e abbiamo la verna silfide o meglio quello che è insomma dai non male non male soprattutto per il fatto che ho trovato anche i bestial saranno super però comunque questi qua è difficile trovarli già il fatto che l'ho trovato il doppio di uno è già qualcosa sono già contento di questo ci sta quindi niente ragazzi questo era il video spollicciatevi se vi è piaciuto condividetelo come se non ci fossero domani scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate e niente noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti quanti voi bella bella qui è Grazie per la visione.